Benvenuti a questo nuovo video, sono Giovanni e oggi siamo con Jacopo! Ciao! Ragazzi, ho un mio amico che non ho mai portato, un bravo amico, e che vogliamo giocare oggi a Brawl Stars, ovviamente. Oggi giochiamo a Brawl Stars. Sì, facciamo sopravvivenza in due? Ok, Gio. Io che cacchio metto? Aspetta. E va bene in quello che ho messo? Quale? Sì, va bene Danamike, io metto Coletto, vai. Pronto? Sì, pronto, vai. Perfetto, ragazzi. Ma voi non sapete che Jacopo, cioè, con Jacopo, raga, vinciamo sempre, perché lui è una bestia sia con Danamike sia con gli altri brawler, vero? No, Gio. Non faccio pena. Eh, non è vero, vediamo un po'. Perché c'è Danamike a livello 1, ma Danamike a livello 1 mica è tanto forte. Però io c'ho Coletto livello 2, mi aspettavo che fosse un po' il più forte, ma c'ha lo stesso danno. Vabbè. Corvo. No, no, non ho preso Corvo. C'è Ombra. C'è Ombra, c'è Ombra, il brawler più forte del gioco. Cavolo. Io bene. C'è Robo. Aiuto, Gio, aiuto. Dai, mi hanno... C'è uno di vita. Uno di vita. No, Jacopo. Eh, dai, raga, uno di vita, Jacopo. Ma che cosa è successo? Dai, metti, gioca ancora. Sì, metto Tara. Eh, no, gioca ancora, vabbè. Vai, Tara, vai. Tara è forte. Però devi attaccare da vicino per farla funzionare a Tara. Ok, non me la trovo, Tara. Non te la trovi. Che dici, Potenzio a Berlick a livello 7? O le monete me le tengo per l'abilità stellare di Leon? Pronto, Gio? Vabbè, sì, vai. Che dici, le monete me le conservo per comprare i gadget o per comprare le abilità stellari? Jacopo? Ah, riconnezione! Non ci credo, caspita. Allora adesso stiamo da soli, cacchio. Eh, ho staccato, mo lo richiamo. Eh, mo si interrompe un attimo. Lo sto richiamando, Jacopo. Un po' di bordelli, come su Gmod, devono succedere. Cioè, Jacopo si impalla la connessione. Eh, mo si sta attaccando. Attaccalo, attaccalo, attaccalo. Vai. Perfetto. No, no, Iris! Mamma mia, ricà. Eh, adesso vinco io contro Iris. Vinco io, vinco io. Vinco io. Ci vincio io contro Iris. Ci vincio io. Cosa ho fatto? Non ci credo, ricà, cosa ho fatto. Cosa ho fatto? Jacopo, però, rispondi. Oh, cavolo. Fa perdere tutte le coppe. Jacopo, ti sei andata via la connessione. E, Jacopo, come sei andata via? E abbiamo staccato. E, per sbaglio, sì, con la connessione. Vabbè. Jacopo, io metto... Chi posso mettere? Maxine, vai, Maxine. Aspetta, il secondo è Giovi che mi ha levato proprio da brossarsi. Ah, Jacopo, ti voglio far vedere la mappa che ho creato. Nuova. Sì, come lo sai, ho creato una mappa. Cioè, ho creato una mappa. Friendly game. Ti invito. Ti ho invitato, vai. Accetta. Sto a fare l'amichevole. Ok, Jacopi? Ok. Adesso. Allora, quella che mo' giochiamo è una mappa che ho costruito io, perché si possono costruire le mappe. Ok? Ok. No, aspetta che mi sei levato l'invito. No, ti invito io. Accetta. Ok, grazie, Jacopo. Accetta, perfetto. Ok, io ho tutta una schermata con te. Eh, sì, sì. E io la metto pronto. Metti pronto, vai. Vai, Jacopo. Pronto. Ok. Questa sei... Allora, dimmi se ti piace la mappa che ho creato io. Ci sono pure i teletrasporti. Ok. Vedi quelle cose blu, rosse? Se ci vai sopra ti portano... È un teletrasporto. Capito? Cioè, io non ti vedo dove sei. Eh, perché non stiamo in sopravvivenza in 2, ma stiamo in singolo, Jacopo. Eh, se ci troviamo... Eh. Allora, vai al teletrasporto giallo. Ok, Jacopi? Ah, eccoti, hai chiamato bull. Guarda questi teletrasporti. Guardalo. Guarda. Hai visto? Hai visto? Guarda che faccio qua. Guarda, vedi quel caso? Eh, sono morto. Come? Ci stanno due bull. Eh, vabbè. Io intanto ti osservo. Eh, beh, pure a me mi ha ucciso. Eh, ti ha ucciso, Jacopo. Vabbè, rifacciamo un altro gameplay con un altro brawler. Io metto Energetic, mi piace, vai. Ah, di nuovo riconnessione, regà. E vabbè, Jacopo ha la connessione un po' scarsa mentre gioca a Brawl. Cioè, dai, diciamo che la connessione di Vabbia pure quando giochiamo insieme a Roblox. Il pomeriggio. E quindi. Quelli due sono sponati vicini perché ho messo gli spawn vicini. Quindi, regà. Cioè. Mi piace molto sta cosa, guardate. Cioè, che Energetic si è colpisce. Ah, Jacopo, ciao. E se è andata di nuovo via la connessione, sai. Non è proprio mia connessione. Mi stacca la tua. Come? No. Perché io ho staccato? Perché a te non andava? Capito? No, io proprio. Ho tutte le minette della connessione attivate. Ah. E allora, pure a me. Eh, che vuoi da me? Vabbè, io metto un altro brawler. Ho un problema il telefono che è proprio. Lo so. Vabbè, Jacopo, senti. Io direi di concludere il video. Così presto, Gio? Ne so, sei minuti, infatti. Dai, Jacopo, rientra. Sì, sto rientrando. Oppure perché non ci combattiamo insieme? No. No, Jacopo, aspettiamo che viene lo scontro finale. Ok. Aspettiamo che viene il conflitto finale. E... No, Gio. Che? Vabbè, non ci combattiamo. Però rientra, dai, Jacopo. Rientra. Mi è successo una cosa. Dai, che cosa è successo? Non mi fa più rientrare da Brustarts. Perché? Non lo so già. Non ci credo. E mo' gioco da solo. No, non mi sta facendo più entrata a Brustarts. Oh, mio Dio, Jacopo, pure a me me li facevassi problemi all'inizio, però... Vabbè. Io intanto mi teletrasporto. Ciao. Che c'è, Jacopi? Io intanto sto a giocare nella mia mappa. Muori. Che c'è? Muori. Chi? A me. Eh. Perché a me? Eh, perché così mi rinviti io posso entrare sulla mappa. Eh, infatti sto quasi per morire. Eh. Ecco. Io intanto sblocco le mappe. Sblocchi. Crei le mappe, volevi dire. No, sblocco. In che senso sblocco? Le mappe. Le mappe dove posso andare. Ah, ok. Vai, teletrasportati, vai. Sì, no, 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 no. C'è la safe. Già. Che c'è, Jacopi? Tu ce l'hai ricercati? Eh sì, ce l'ho ricercati. Eh. Ti chiamo quella. Eh, aspetta, finì qua. Tanto son morto. Cacchio, cacchio, cacchio. Come l'ho uccisa? Conflitto finale, vai. Con chi? Eh, non lo so con che brawler. Spero che me lo danno con tipo Carl che... Oh, Beryl. No, Beryl non mi piace. Beryl non mi piace. Oh no, son morto. Caspita, vabbè. Che c'è, Jacopi? Ti invito. No, invito te, invito te. Attena. Ricercati. E una cosa, Gio. Che c'è? Quale bianco hai detto? Eh, metti... Io, Eugenio. No, non ce l'hai, Eugenio. Metti Sandy, perché Jacopo c'è a Sandy, regà. È a Sandy? Se è forte i ricercati. Veramente, regà, non lo sta a sfotte. Vai. Ma sapete un po', no? Lo vedo, non so se c'ho Sandy, ma... Ma che te la odi? Perché non mi piace Sandy, c'è l'ha a livello 1. Eh, vabbè, però è pure forte a livello 1. C'ho Frank a livello 20. A livello 20. Vai, muoviti, Jacopo! Guarda cosa c'è scritto! Gio. Guarda! Cosa ho fatto? Ho rallentato Donna Mike col gadget, è vero. Hai visto che è forte? Eh sì, c'è Frank. Hai visto che è forte Sandy? C'è Frank, l'ho capito, però... L'ha killato. L'ha ucciso. Sì. No, è stata Anita. Vabbè. Oh no, sei morto. Guarda, mo' li attivo tutti qua. Se tu che hai poca connessione, vedi, allora? Vai! No, ho sprecato la super! Cacchio, 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 no! Mi ha bloccato Frank! Mi ha bloccato Frank! E io l'ho ucciso, Frank. Ah, infatti, mi hai vendicato. No! Ma, cacchio, potevo saltare. No, ma l'ho ucciso, già. Ti hanno ucciso, aspetta, killo io a questo. Perfetto. No, tranquida. Ma perché Frank sta col succo? Perché Frank sta col succo? Perché? No. Il succo non esiste in ricercati. Ehm... E ne sta giù. Ma perché non riesco a killar sto bull? No! Io mi sto un po' preoccupando. Perché? Perché a me fa sempre in continuazione c'è poca connessione. Come sempre in continuazione c'è poca connessione! Grande, Jacopo! Sei stato grande! Dai, due stelle di differenza. Ce la possiamo fare. Jacopo, sei stato te a salvarci la vita. Jacopo, sei il migliore. Jacopo, sei un grande. Jacopo, sei... 31! Sei morto. Siamo morti. Eh... No, abbiamo perso! Vabbè, è un amichevole. No! Vabbè, è un amichevole. Non perdiamo coppe. No! E c'è? Quando... Quando si copre o sterze non penso allora, ma penso di vincere. Bravo, bravo. Beh, Jacopo, senti, siamo a 11 minuti. Vabbè, concludiamo il video qua. Quindi, ciao ragazzi! Possiamo fare l'ultima partita? Ehm... No, Jacopo, la facciamo in un prossimo video, ok? Ok, ciao!